Bentornato guerriero, eccoci al preludio di Modern Warfare 2. Fra pochissimo tempo avremo la possibilità di mettere le mani sulla campagna per chi ha fatto il preorder digitale, ma qui davanti a noi abbiamo la patch note di quello che ci aspetta per Modern Warfare 2 il 28 di ottobre. Quindi andiamo a vedere, siediti e mettiti comodo, andiamo a snocciolare tutte le informazioni che sono state rilasciate da Activision in queste ore. Prima di cominciare però ricordati, lascia un like, iscriviti a questo canale, ricordati che vado live su Twitch al canale TwitchTV. Ed eccoci alla pagina di lancio dove viene elencato tutto quanto quello che dobbiamo sapere prima della partenza di Modern Warfare 2. Quindi abbiamo qua tutte le notizie che ci dicono che Modern Warfare 2 verrà rilasciato il 20 di ottobre pre-download il 19 alle 19 e potremmo mettere le mani, ovviamente se abbiamo preordinato il titolo in maniera digitale, il 20 di ottobre alle 19 ore italiana. Il 28 per tutti gli altri insieme al multiplayer. Sono molto contento di comandare Call of Duty Next e hanno fatto vedere Warzone 2 dove hanno ricevuto un sacco di feedback, veramente tantissima roba che ha potuto migliorare il gioco. La stessa cosa vale per la beta che hanno fatto del multiplayer dove hanno veramente riscosso un successo incredibile e dove hanno ottenuto un sacco di informazioni importantissime per migliorare il gioco. Qua ci sono tutte quante le date che riportano i vari rilasci, quindi alle 19 di sera del 19, quindi stasera potremo downloadare su tutte le piattaforme la campagna single player, il 20 la potremo giocare. Queste invece sono le date per quanto riguarda il multiplayer, per chi è possessore PC il 26 di ottobre alle 19 si potrà fare il pre-download. E qua ci sono tutte le date e l'ora in cui saranno aperti i server per poter giocare a Modern Warfare 2. Se non sbaglio alle 6 del mattino, ma potrei essere un pochettino fuso a quest'ora e quindi potrei sbagliarmi. Comunque sia alle 06.00 del Central Europe Time dovrebbe corrispondere alle 6 ore italiana. Comunque sia il 27 di ottobre mattina si potrà iniziare a mettere le mani sul multiplayer e dal 28 al 15 novembre ci sarà la pre-stagione di Modern Warfare 2 dove ci sarà veramente tantissima roba da fare, armi, operatori di tutto di più. Il 16 novembre la modalità di Call of Duty Warzone 2, DMZ, Battle Royale che include ovviamente tutte e due le modalità di qui sopra, vengono lanciate insieme alla stagione 1. Quindi il 16 novembre partirà la stagione 1 di Warzone 2. Quindi qua ci sarà veramente tantissima roba da fare anche qua, conoscere di nuovo una mappa che dalle prime immagini sembra bellissima. Chi ovviamente ha acquistato la Volt Edition skippa tutti i primi 50 livelli perché ce ne sono 100 ricordiamolo e quindi si porteranno in vantaggio rispetto agli altri. Il 14 dicembre comincerà ufficialmente la prima stagione Reloaded, quindi qua già parlano della stagione Reloaded il 14 dicembre dove fanno di solito i ritocchini di quello che non va nella stagione 1 e aggiungono magari qualche piccola variante arma. Ma veramente tantissima roba, quindi settimana zero panoramica accesso della campagna anticipata, qui abbiamo disponibile il preordio digitale e tutto quanto quello che abbiamo detto prima. Stiamo parlando quindi, qui stanno facendo un piccolo reminder della campagna dove ci sono tutti i personaggi tipici e iconici di Call of Duty e poi qui abbiamo ovviamente tutti le ricompense per chi giocherà la campagna, quindi a progetto arma, operatori eccetera eccetera. Qui sotto tutto elencato tutto quanto quello che vi sto dicendo per quanto riguarda le ricompense e poi andiamo a vedere la panoramica multigiocatore e le operazioni speciali che ritornano su Modern Warfare 2. Quindi le operazioni speciali facevano veramente cagare nel Modern Warfare 2019, erano pieni di bug, di casini, ma in questa versione sembra che l'abbiano resa molto più stabile e soprattutto molto più divertente. Quindi multiplayer più operazioni speciali. Multiplayer le conosciamo, ci sono tantissime mappe, il primo giorno ci saranno 12 modalità uniche, 10 modalità tradizionali sulle mappe principali e due modalità Ground War, quindi battaglia terrestre sulle mappe della battaglia. Queste mappe sono raggruppate in tre categorie regionali, ovviamente qui c'è Almazra che sarà l'area metropolitana dove avrà luogo Warzone 2 e ci saranno tantissime zone che potremo andare a vedere all'interno del multiplayer che potremo quindi iniziare a conoscere per poi essere più confident sulla mappa di Almazra. E vediamo insieme delle immagini che sono veramente fighissime, poi la Salmas, un importante luogo di interesse nella campagna di Modern Warfare 2, qui abbiamo invece il resto del mondo dove l'ultimo gruppo di località multigiocatoria è un assortimento di mappe principali senza una regione specifica, quindi questo qui è un purpurri buttato là dentro. Quindi operazioni speciali, co-op come vi dicevo prima, ritornano e sembra che siano divertenti questa volta e soprattutto stabili che non abbiano problemi come succedeva nel 2019. Quindi qua ci sono le missioni basso profilo, zona negata, difensore monte zaia e ci sarà la possibilità di avere operatori che hanno accesso ad uno zaino per riporre l'equipaggiamento e tre kit simili ai perk che abbiamo e i potenziamenti da campo. Ci sarà il perca assalto, medico, ricognitore eccetera eccetera. Qui sembra veramente tanta tanta roba divertente e andremo a esplorare anche questa nuova modalità Spec Ops che si potrà giocare in cooperativa ovviamente. Qui tantissima, veramente tanta tanta carne al fuoco, progressione, il viaggio al lancio più intel prima del rilascio. Quindi queste sono tutte le informazioni al momento del lancio, ovviamente nella prestagione, prima della stagione 1 che includerà il nuovo sistema di battle pass e prestigio stagionali, i giocatori avranno accesso ai seguenti sistemi di progressione. Ovviamente i soliti 55 gradi militari, piattaforme armi che ce ne saranno veramente tantissime, quindi i ricevitori che abbiamo imparato a conoscere sul multiplayer che abbiamo giocato insieme, kit per le operazioni speciali, sfide per lo sblocco operatore. Ci saranno 18 operatori da sbloccare già direttamente al lancio più quelli che introdurranno successivamente, sfide giornaliere e sfide aggiuntive. Quindi poi il modo migliore per prepararsi a Warzone 2 in arrivo il 16 novembre è quello di attraverso il multigiocatore le operazioni speciali di Modern Warfare familiarizza con il nucleo di Call of Duty Warzone 2, quindi con quello che sarà il core di Warzone 2. Quindi gli operatori 25 al lancio, 18 possono essere sbloccati come vi dicevo prima nella prestagione e poi verranno introdotti gli altri. Armi, oltre 30 armi, piattaforme di armi disponibili al lancio e 50 armi uniche. Ci sarà veramente tantissimo da testare, quindi rimanete collegati a questo canale. Passatemi a trovare su Twitch, il canale Twitch.tv slash BitLocker per poter vedere man mano che cosa è forte, cosa è meta e come poterle buildare al meglio. Meccaniche di gioco, ovviamente ci sarà tutto quanto alla meccanica di gioco che è leggermente cambiata rispetto a quello che conosciamo oggi di Modern Warfare 2019. Enricochet anti-cheat che parte direttamente per cercare di bannare tutti quanti gli imbroglioni che citano a bestia su Warzone 2 e non sanno farsi una bella partita, tranquilli, senza doversi giocare la famiglia e la casa. Poi operatori in contra, specgru eccetera eccetera, qui sono tutti quanti gli operatori, sono tutti quanti elencati, ve li lascio a voi da leggere perché tanto guardate, c'è veramente tanto, poi potremmo approfondire sul canale YouTube tutti gli operatori pian piano che inizieremo a conoscere, però oggi andiamo a vedere quello che ci aspetta, soprattutto interessante, armi, piattaforme di armi e armeria. Questa è la parte più forte, più interessante perché con la nuova introduzione del Gunsmith, quindi dell'armeria, ci sarà veramente, al momento del lancio saranno disponibili 33 piattaforme di armi uniche da sbloccare attraverso i gradi militari. Ciascuna piattaforma d'armi può contenere fino a 6 armi, quindi DMR, SMG, come vi ho detto già in questo canale, ogni ricevitore potrà diventare 6 tipi di armi differenti. Ovviamente nel momento in cui andiamo a sbloccare un accessorio, questo rimarrà per tutte le 6 armi, quindi questa è un'altra bella variante che introduce veramente tanta verità. Sbloccando tutte queste piattaforme di armi, completando tutte le soglie di progressione applicabili delle piattaforme di armi, avrai 51 armi primarie e secondarie tra cui scegliere per l'equipaggiamento. Quindi aspettati, 10 fucili d'assalto, 4 fucili da battaglia, quindi LMG, 7 fucili mitragliatori, 6 mitragliatrici leggere, 4 fucili a pompa, 6 fucili da tiratore scelto, 3 fucili da cecchino, 1 scudo antisommossa, 5 armi da fianco, 4 lanciatori, quindi 4 bazzuconi e un'arma secondaria da mischia. C'è veramente di tutto e di più, veramente tanta tanta roba. Scusatemi per questi 4 fucili da battaglia che sono i DMR, non sono gli SMG, gli LMG, perdonatemi. Quindi motore condiviso, quindi qua ci sta raccontando che Multiplayer di Modern Warfare 2 sarà lo stesso motore che girerà su Warzone 2, quindi impariamo a utilizzare le meccaniche sul Multiplayer per poter essere poi dei maestri su Warzone 2. Ricochet ce lo troviamo subito il primo giorno e meno male, poi Intel di lancio aggiuntivi, qua ci sono tutte le informazioni, ovviamente Twitch drop in arrivo dal 28 al 6 di novembre, quindi passatemi a trovare su Twitch per avere anche voi i vostri drop esclusivi. Poi tutto il resto è noia e quindi guarda contenuti di Modern Warfare, ci sarà veramente tanta tanta roba, qui ve li lascio di seguito, evito di dilungarmi per ordine adesso perché te sei più bello degli altri. Questo è tutto quanto quello che potevo dirti che dovevi sapere prima dell'arrivo di Modern Warfare 2 e di Warzone 2, spero di esserti stato utile e di averti dato tutte le informazioni che ti servivano per prepararti. Ti aspetto sul mio canale Twitch, twitch.tv slash bitlocker, lascia un like a questo video, condividilo con i tuoi amici per poter crescere su YouTube e mi raccomando iscriviti al canale. Inoltre ricordati che vado live su Instagram e TikTok, non vado live ma sono attivo, perdonatemi ma è veramente tarda tarda l'ora. Quindi vi aspetto tutti per il momento guerriero, questo è tutto, keep fighting, alla prossima!